Se mi vedrete ste copari all'interno di questo video sarà divertente, sarà bislacco Non avrà completamente senso, sappiatelo già da te, so sappiatelo già da Steppning, tutti fanno la sficar di Wankan, la fanno tutti tranne te Eh dai e facciamo Scusate ho sbagliato file Fare click su aggiungi estensione per chiudere questa pagina Scusate ho sbagliato file Scusate ho sbagliato file Bene ragazzi, qui Stepp e bentornati in questo nuovissimo video di canale Oggi faremo una challenge un po' bislacca E vi garantisco che questo video è un nuovo romanzo da vedere Scusate ho sbagliato file 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 Good thing I found them